L'edilizia, motore dell'economia. Uno dei temi chiave è il circolo virtuoso del riutilizzo dei materiali di scarto, secondo un'ottica sostenibile. Lance Pesaro ha affrontato l'argomento nel corso di un convegno edilizia insostenibile al teatro sperimentale di Pesaro. Abbiamo tutti gli strumenti per mettere in campo una corretta gestione dei rifiuti che produciamo, li trasportiamo correttamente, li lavoriamo, produciamo una materia prima, seconda viene definita, quella che viene fuori da un'attività di recupero, ma poi questa materia prima, seconda viene poco commercializzata, poco usata nella produzione di nuovi fabbricati, di nuove strade, nel caso dell'edilizia, ma la stessa cosa anche per gli altri settori merceologici. L'edilizia sicuramente sta avendo ed ha un ruolo molto importante nel processo di ripresa del Paese, ne riprova appunto tutte le risorse e le misure che sono anche previste all'interno del PNRR. Ci sono tante criticità, c'è però sicuramente anche un importante dialogo col Governo che sta supportando e anche seguendo la situazione. Le Marche, protagoniste della ricostruzione dopo il sisma, come ha spiegato il commissario straordinario Giovanni Legnini. Siamo molto impegnati nella definizione dei programmi, dei progetti, degli interventi, con le regioni sul fondo complementare PNRR. Vareremo a breve l'ordinanza speciale sulle scuole per finanziare tutte le scuole danneggiate a sisma, nel cratere e fuori cratere, per integrare le risorse finanziarie per gli istituti che non ce la fanno a completare i lavori. E per il nuovo anno vareremo anche un nuovo programma di opere pubbliche integrativo di queste due iniziative. L'economista Carlo Cottarelli ha parlato del rimbalzo economico in atto. No, è un rimbalzo finché non arriviamo a livello del reddito, del PIL, della produzione che avevamo nell'ultimo trimestre del 2019, si può parlare di un rimbalzo, stiamo tornando a quel livello lì. Quindi soltanto dal prossimo trimestre vedremo se questa è una ripresa stabile oppure se appena arrivati lì ricominciamo a rallentare. Io sono abbastanza fiducioso che il prossimo anno continuiamo a crescere, poi più in là dipende da tante cose, da che riforme si fanno e così via.